Prendete un pezzo di carne di qualche animale investito, lo mettete a cuocere in padella, poi nel frattempo Prendete un pezzo di pane e lo scavate, se ci infrate il cazzo siete dei pervertiti E poi fate una cremina piena di erbe schifose e velenose, lo mettete tutto in forno a cuocere E quando è finito lo tirate fuori e lo togliete a fette come il mio cazzo